Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video ora sono un po' malata e non so perchè mi sono sbagliata con mal di gola sono nervosa in compagnola di questo bellissimo orgo che ho trovato pieno di partire vi porto un aperto di 3 pacchetti pesati sempre sono andata al medico vicino a me e ho preso questi 3 pacchetti questo all'inizio pesava tanto poi dopo se trovo un ex ve lo dico dai poi come l'altro lato pacchetto pesava poco poi il peso è tornato era pesante era ancora pesante quindi l'ho preso anche questo però so già che ci sarà una olografica poi l'ho preso per questa ragazzi perchè non volevo lasciarlo la magari trovo una bella ca... ma perchè è caduto il pacchetto? scusa che ogre è caduto magari trovo una bella carta ragazzi e l'ultimo pacchetto di xy c'erano tanti di questi questo è l'unico che pesava tantissimo ragazzi e anche qua se trovo una bella ex o una full vi dico il peso questa pesava di più dell'altra volta e quindi secondo me c'è una full art ma vediamo magari mi illudo e spero che ne esca una che mi manca partiamo da questo qua che mi ha detto rbx e seguo su consiglio apriamo questo qua di stirpe se c'è un ex perché pesava so già che sarà regi stilex io ragazzi ce l'ho già vuoi che non esca proprio lui ce ne tanti di ex pacchetto medio l'apriamo e la rara la metto per terra pacchetto quasi aperto a perfezione quanto è carta ragazzi però mi diverto ad aprirle uno due tre vabbè no ragazzi se c'è la ex è rovinata tutta carta ma secondo me non c'è niente rara giù e reverse giù pesava ragazzi ma sapete che non c'è niente abbiamo tor spero su xif se c'è una carta che mi manca se esce molga fa schifo poi molga gabait electric buison sapete che molga non c'è niente vabbè tanto è carta proprio per divertimento guamplo mincada gible la reverse è un bel coso e la eh ragazzi però ho pensato male potrò non prenderlo e la rara è un braviari garlic olografico poi ragazzi pesava tantissimo che schifo una olografica cioè mi manca però io voglio una ex no questo anche qua c'è una olografica oh ragazzi che delusione spero x y mi servino una bella carta ma potevo non prenderlo perchè a me l'ho definita però ragazzi non mi interessa voglio solo l'ex ragazzi se parla la bilancia è rotta avevo pesato male ma proviamo questo vabbè ve lo dico lo stesso pesava 27,5 e di solito quando pesa così c'è l'ex eh invece 1,2,3 tocchiamo qua ma dai niente oh ragazzi ho pesato male ma la bilancia fa schifo oh ragazzi che illusione scrafti raro oh ragazzi ho la bilancia fusa scusa boh pesava tantissimo vabbè questo gioco anche qua non c'è niente perchè la bilancia è rotta oh ragazzi ho già 5 l'ho buttati se non riesce niente qua boh vediamo direi di guardare già non so proprio perchè non c'è niente ah si c'è una bella full art qua e so già chi è l'ho visto vabbè ragazzi almeno qua è una bella ex fa un culo quella la da 2,50 1,2,3 la metto giù la è una full art ed è anche carina abbiamo fai vitalizzante max dodrio ledian potrò prendo solo questo vabbè dai skitti frochi energia fuoco slum la reverse eh ah un bisuf di merdina e la rara guardate ragazzi un bellissimo venuser ex full art eh si non è magari perfetto ma che se frega dai almeno ho trovato questo bellissimo boh qua ho pesato bene ragazzi ma sono rimasta delusa per esploratore dei tenebre pesava 27 e 5 di solito doveva esserci una olografica vabbè dai non le prenderò più perchè vedi quella è da 2,50 da 2,50 boh non lo so vabbè dai consentiamoci di questo bellissimo venuser ex full art boh alla fine ho spoccato solo 5 ma che se ne frega se ne frega dai o questo boh un saluto da questo bellissimo video e da venerosaur e arcochiocle dai ma è bello comunque dai sono rimasta solo delusa per questi due pacchetti non capisco perchè pesiamolo tanto eh e non c'era niente ma poi il pacchetto di sgraffita era ciccione e si mi sa che ha fregato l'aria vabbè dai bellissima carta anche in ottimo stato ciao a tutti